Tappa bagnata, tappa fortunata, stavolta lo può dire solo il primo a tagliare il traguardo, in questo caso il francese di origine magrebina, Nasser Bouhani. Il ritorno in patria del Giro d'Italia 2014, dopo le tre tappe d'esordio in terra d'Irlanda, non è stato esattamente baciato dal sole come nelle speranze di organizzatori, corridori e spettatori. Già alla partenza da Giovinazzo, dove all'ultimo momento ha dato forfè il grande favorito della vigilia Marcel Kittel, ufficialmente febbricitante, la pioggia ha portato i corridori a non scatenare eccessiva bagarre per evitare di scivolare sull'asfalto bagnato. Una situazione che ha portato il gruppo alla decisione di neutralizzare la corsa fino al circuito di Bari, per cui il passaggio nel centro di Molfetta e poi in quello di Bitonto, gremito di appassionati nonostante la pioggia battente e fastidiosa, non ha riservato particolari emozioni. Fortunatamente il maltempo ha dato tregua ai corridori lungo gli otto giri del circuito finale nel centro di Bari, salvo ripresentarsi a poche centinaia di metri dal traguardo, quando una caduta ha spezzato in due il gruppo, rischiando di tagliare fuori il velocista italiano Elia Viviani, che alla fine sarà quinto all'arrivo, di fronte al teatro Piccini, dietro Boigny, Nizzolo, Fehlerz e Ferrari. Soddisfatto il francese è partito con i favori del pronostico dopo il ritiro di Kittel. È una grande soddisfazione per me perché nel quarto giro del circuito mi ero staccato e non pensavo di riuscire a rientrare, ma la mia squadra ha fatto un gran lavoro e mi ha fatto rientrare in gruppo, in tempo per strappare la vittoria. Molte polemiche in gruppo per la decisione della giuria di neutralizzare la classifica al penultimo giro, viste le condizioni critiche dell'asfalto. In maglia rosa resiste l'australiano Michael Matthews. Ha piovuto per quasi tutto il tracciato e la strada era davvero scivolosa. Per questo fin dalla partenza abbiamo parlato in gruppo per capire quale fosse l'atteggiamento migliore da tenere in gara. Quando siamo arrivati sul circuito abbiamo visto che andava tutto bene e per noi non ci sarebbero stati problemi per arrivare in fondo, anche se la cosa migliore era neutralizzare i tempi all'inizio dell'ultimo giro. Credo che sia stata la decisione migliore e mi congratulo con la direzione di gara per averla scelta, perché quando ci sono 150 corridori che pedalano sul bagnato c'è il rischio di avere 150 corridori a terra. Lo dimostrano i 15-20 che sono caduti all'ultimo giro. Chi ha voluto fare lo sprint lo ha fatto e alla fine siamo tutti felici.